La terza volta è stata quella buona. Andrés Manuel López Obrador ha sbaragliato tutti gli avversari alle ultime elezioni presidenziali in Messico. Dopo due tentativi andati a male, favorito dai fallimentari risultati del suo predecessore Enrique Peña Nieto, AMLO, questo il suo acronimo, ha vinto con scarti abissali promettendo la fine delle ingiustizie, della violenza e della corruzione. Ma potrà mantenere le promesse di campagna? Lo abbiamo chiesto a Tiziana Bertaccini, professoressa di Storia dell'America Latina all'Università di Torino. Secondo me non può realizzare tutto quello che ha promesso, si tratta ovviamente di promesse elettorali. Lui dice che riuscirà a non alzare le tasse semplicemente eliminando la corruzione, cosa che è un'impresa anche questa abbastanza difficile. Non credo che riuscirà ad avere la copertura per tenere fede a tutte le sue promesse. Tiziana Bertaccini è stata anche osservatrice internazionale durante le consultazioni. Sono state elezioni regolari? L'INE, l'autority per le elezioni, è una cosa seria in questo Paese? Credo che il Paese sia anche istituzionalmente diverso da un caso come quello del Venezuela. Per esempio, se pensiamo alle istituzioni elettorali, in questo caso abbiamo visto un'istituzione elettorale dell'INE che comunque si è rafforzata e comunque ha dimostrato anche la sua indipendenza. Questo è un segno assolutamente positivo e quindi al contrario di tutti i timori che c'erano per i brogli elettorali, la compravendita del voto, che anche se ci saranno state ovviamente compravendite del voto e clientele, però l'INE si è dimostrata comunque un'istituzione solida. AMLO è uomo di sinistra o rappresenta un rischio per il Messico? Era stato perfino accusato di essere vicino al Venezuela di Chavez e Maduro? Allora io non so nemmeno se si può definire sinistra, forse lui si definisce di sinistra, nuova sinistra, ma ricordiamoci che si è alleato con il PES che è un partito comunque fondamentalmente conservatore. Però sì, la linea sua è quella che era la linea dei partiti progressisti di sinistra in America Latina. Anche a livello di modello economico lui torna a guardare verso l'interno. Rischi secondo me sono più contenuti in quanto è cambiato il contesto latinoamericano. in quanto l'asse pan-latino che c'era appunto con Chavez fino a qualche anno fa, praticamente ora non c'è più. Dal 2015 con il cambio di ciclo politico e con l'elezione di Macri in Argentina, quello che è passato in Brasile, il coesio politico, eccetera, eccetera, l'America Latina sta andando, diciamo, verso il centro-destra. E il Messico in questo caso è un caso in controtendenza. Il neopresidente potrà mettere un freno alla guerra dei cartelli del narcotraffico che hanno fatto migliaia di morti nel paese? La sfida della guerra tra i cartelli di Amlo è la sfida di tutti, ovviamente. Non è soltanto la guerra di Amlo, ma lo sarebbe stato di chiunque fosse arrivato al potere. Non vedo quali strumenti diversi abbia Amlo nelle sue mani di fronte a un problema che ormai pervade veramente tutto il paese, insomma, le istituzioni, la polizia, eccetera. Credo che bisognerà aspettare per vedere quali misure riuscirà a mettere in atto. Comunque anche lui credo che dovrà scendere a patti, come tutti gli altri, come tutti quelli che arrivano al governo, una cosa della campagna elettorale, poi vediamo se sarà capace alle mediazioni del caso, anche quelle con gli Stati Uniti. Necessariamente dovrà trovare una maniera di convivenza. È sempre stato così la relazione tra Stati Uniti e Messico. Non si può prescindere, sono veramente integrati profondamente. Ovviamente il momento è difficilissimo perché il Messico viveva sia una crisi interna, sia questa crisi esterna, la crisi con gli Stati Uniti, ma anche qui Lopez Obrador dovrà trovare una maniera in qualche modo di trovare un modus vivendi con gli Stati Uniti, come sempre è accaduto alla fine nella storia del Messico.